Ha trovato il modo, il sistema, lo strumento di fare qualcosa per lo sport, perché allo sport io devo molto. Un ragazzino, quindi lì ad oratorio come tanti poi da mia età, a scuola con la partecipazione ai campionati studenteschi e a tutto quello che si faceva una volta, compreso l'interazione di una lì per tra i ragazzi perché sapevano che giocavi e quindi benvengano i licei sportivi di oggi all'università con l'attività presso il curso e poi dopo nella professione. Quindi allo sport ero molto e attraverso il patro credo di aver ricambiato quanto avevo ricevuto dallo sport, senza obiettivi particolari. Quindi questo premio mi gratifica perché è come attestare che tutto quello che ho fatto l'ho fatto senza secondi fili.